Rudolf Steiner ci dice anche quali sono gli effetti della iniziazione e ci dice che una delle massime fondamentali della vera scienza, la scienza occulta stiamo parlando, infatti il testo è iniziazione, come si conseguono conoscenze di mondi superiori, questo è il testo di Steiner di cui ci stiamo occupando naturalmente, è che chi vi si dedichi lo faccia con piena consapevolezza, così dice. Quindi la consapevolezza di ciò che si fa è importante, e quindi bisogna conoscere l'effetto di ciò che si sta facendo su noi stessi, quindi gli effetti della iniziazione, così come l'abbiamo parzialmente descritta riferendoci al testo di Steiner. Qui dirà proprio quali sono alcuni effetti che l'anima del discepolo ha nel momento in cui si approccia a questa materia. Naturalmente chi non vuole compiere la sua scuola con gli occhi aperti potrà diventare un medium, dice, ma il medium è appunto passivo, non è attivo, non brancola nel buio, mentre chi è a conoscenza anche degli effetti, naturalmente può governarli molto meglio. Nell'uomo che segue gli esercizi descritti precedentemente noi sappiamo che si modificano alcune, diciamo così, alcune caratteristiche dell'anima e quindi la nostra componente sovrasensibile, quindi animica e spirituale, incomincia a cambiare e incomincia a realizzarsi una percezione di tipo chiaroveggente. Si può paragonare ad una nube animico-spirituale più o meno luminosa, questo stato chiaroveggente, in mezzo alla quale si trova il corpo fisico dell'uomo. Quindi noi vediamo effettivamente questa realtà sovrasensibile nel momento in cui arriviamo a fare questo processo interiore di purificazione dell'anima. Non è una vista con gli occhi, ma è una vista dell'anima appunto, con gli occhi dell'anima potremmo dire, con anche un'espressione che lo stesso Goethe usa. Bisogna quindi vedere in maniera chiara questo aspetto. E una delle cose a cui andremo incontro, per esempio, è che percepiremo il pensiero puro e nobile come una sorta di irradiazione viola-rossiccia, per esempio. Invece un pensiero confuso, di un cervello disordinato, si manifesta come una figura con contorni incerti. Quindi ecco anche la percezione proprio cambia. Quanto più l'uomo progredisce nell'evoluzione della sua anima, tanto più il suo organismo animico si costituisce in maniera regolare. E diciamo che così, l'anima si palesa come una specie di corpo indipendente dotato di organi. Quindi gli organi di cui ora ci parla Steiner sono quelli che vengono percepiti nella vicinanza delle seguenti parti del corpo fisico. Il primo organo che emerge come organo animico viene percepito tra gli occhi, il secondo viene percepito vicino alla laringe, il terzo viene percepito nella ragione del cuore, il quarto vicino alla bocca dello stomaco, il quinto e il sesto risiedono nell'addome. E questi generalmente vengono appunto descritte, questi punti che abbiamo detto sette punti sono i famosi sette chakra, che significa ruote fondamentalmente, chakrams in sanscrito significa ruote o anche sono descritti come fiori di loto. Nell'uomo non evoluto questi fiori di loto, questi chakra, sono di colore oscuro, stanno fermi, senza movimento, mentre nel chiaroveggente sono in movimento e hanno anche delle sfumature luminose, quindi questi fiori sono dei propri organi sensori dell'anima, che però sono percepibili anche a livello fisico con uno sguardo chiaroveggente. E quindi ecco che si modifica il nostro organismo animico così come si modifica anche il nostro modo di pensare e il nostro modo di sentire, tutto ciò che riguarda la sfera della interiorità potremmo dire. L'organismo in questo modo ha attuato una significativa modifica. Bisogna vedere alcuni aspetti. Generalmente l'uomo ode, vede, sente qualcosa, si forma dei concetti sulla base di ciò che ha visto e ha sentito. Però finché procede così questi aspetti più interiori non vengono a manifestarsi, perché è essenzialmente inattivo nella sua animicità quando ragiona, quando procede in questo modo. E invece è importante sorvegliare le proprie rappresentazioni, sorvegliarle attentamente. Ogni singola rappresentazione deve acquistare significato per lui, ecco la significatività di ciò che noi osserviamo. Quindi in ogni rappresentazione il discepolo, se vuole procedere in modo da sviluppare questi organi sovrasensibili, deve appunto procedere in una maniera specifica, specifica. Deve scorgere un senso in questa misura che stiamo dicendo, deve scorgere un messaggio quasi occulto in quello che percepisce. Non deve concentrarsi di rappresentazioni che non abbiano un significato. Tutte le rappresentazioni che deve avere devono essere ancorché poche, ma significative, avente un senso per lui. Quindi deve dirigere l'intera sua vita concettuale in modo che essa diventi lo specchio del mondo esteriore, quindi non una speculazione e lucubrazione fine a se stessa. Il pensiero è volto a comprendere il senso delle cose che noi ci rappresentiamo. Il secondo processo animico, che è un processo essenziale per sviluppare questo fiore di loto, questo fiore di loto che appunto è fondamentale, di cui stiamo parlando, che è essenzialmente l'organo vicino alla laringe, che è forse il più importante, così ci dice. Per sviluppare questo fiore di loto, ma ovviamente questi fiori di loto sono i chakra, lo abbiamo detto, quindi per sviluppare in generale i chakra, bisogna attuare questi processi, secondo la sua prospettiva, che non è quella tradizionale, che non è quella con cui l'Oriente ha sempre concepito i chakra, ma è una riflessione ed è un'idea che si basa sulle esperienze medesime dello Steiner. Bene, ecco il secondo processo è quello della risoluzione. Noi dobbiamo procedere risolutamente, in maniera seria, matura, quindi anche in merito alle cose più insignificanti dobbiamo procedere con questa serietà. Bisogna rinunciare a ciò che non è determinato da una ragione valida. Tutto ciò che facciamo deve avere alle sue radici una motivazione valida, una ragione. Ecco, il terzo processo invece è quello della favella, del dire, del parlare, del comunicare. Essenzialmente il discepolo deve parlare soltanto di cose che hanno senso e importanza, altrimenti è meglio che non parli. Il discepolo deve fare questa purificazione del linguaggio, potremmo dire. Non deve essere irrelato nell'abituale modalità di intrattenimento delle relazioni sociali, che sono per lo più confuse e poco sensate, ma quindi essere concentrato al dire cose che seguono da una riflessione. Quindi il suo discorso è un discorso riflessivo, quindi rimane nelle relazioni il discepolo, non deve sottrarsi ad esse, ma vi rimane con una consapevolezza di ciò che dice, quindi senza parlare mai, senza senso, senza meditare, ponderare ciò che si dice, senza usare neanche troppe parole, basta e veramente poco per essere efficaci e quindi comunicare con poche parole, parche, ma dense di senso, pregne di significato e di pensiero, di riflessione. Il quarto processo animico riguarda invece il modo di regolare l'attività esteriore. Egli deve rinunciare, questo discepolo, alle azioni che disturbano gli altri o che sono in contrasto con ciò che si svolge attorno a lui, quindi bisogna disporre la propria attività in modo che si inserisca in armonia nell'ambiente in cui è, ecco, nella sua situazione di vita. Quando è stimolato all'azione da qualcosa di diverso, egli esamina con cura, come meglio gli convenga comportassi in quella specifica occasione, affinché la sua presenza non crei uno squilibrio nella società e nel contesto sociale, meglio, in cui è. Quindi deve agire per iniziativa propria e pesare gli effetti del suo agire in maniera chiara e significativa e appunto adeguata al contesto. Il quinto punto, che qui stiamo prendendo in analisi per sviluppare questo fiore di loto, questo chakra, e in generale tutti i chakra, è quello della vita conforme allo spirito e alla natura. Non bisogna mai avere troppa fretta, ma neanche essere troppo pigri, indolenti, bisogna avere un ritmo che è quello naturale, affinché si realizzi la vita armonica, quindi organizzare la cura della salute, delle abitudini, in modo che questa armonia si manifesti, questa armonia con lo spirito e con la natura sia manifestata. La sesta realtà di cui stiamo parlando è quella della autoconoscenza. Non bisogna fare niente che ecceda alle proprie forze, bisogna essere consapevoli dei propri limiti, ma nemmeno rimanere all'interno dei propri limiti. Cioè bisogna avere questo equilibrio che ci consente, a partire da una conoscenza di se stessi, di capire quali sono le nostre realtà realizzabili, quali sono le nostre potenzialità, e anche quali però sono le cose che non possiamo fare, e abitare questa soglia senza eccedere troppo, ma senza neanche rimanere nella nostra, potremmo dire noi oggi, nella nostra zona di comfort. Ecco, il settimo punto è quello dello sforzo per imparare, quanto più è possibile, dalla vita. Bisogna imparare da ciò che nella vita si manifesta, non la si deve svolgere in maniera randomica, e che ci passa davanti senza che noi cogliamo qualcosa di utile per la vita in quello che facciamo. E quindi tutte le nostre esperienze sono utili alla nostra stessa esistenza. E continuiamo ad imparare dall'esperienza medesima, non bisogna compiere azioni, quindi senza guardare alle passate esperienze che possono aiutarci, poi nelle decisioni e nelle attività. L'ottava condizione è l'ultima, e che richiede proprio di rivolgersi tutto alla propria interiorità. Il discepolo deve immergersi in se stesso, deve chiedere seriamente consiglio a sé medesimo, formare e valutare i principi su cui fonda la propria vita, passare mentalmente in rassegna le proprie cognizioni, esaminare i suoi doveri, riflettere sul contenuto e sullo scopo della vita e così via. Quindi ecco la meditazione. Però bisogna stare molto attenti perché bisogna seguire quelle che Cittadini richiama delle forze costruttrici, che sono la veracità, la lealtà e l'onestà, che si contrappongono alla menzogna, alla falsità e alla slealtà, appunto, che sono invece forze distruttrici, quindi bisogna essere veraci, cioè dire il vero, dire il vero e soprattutto essere nel vero. Poi la lealtà, appunto, l'essere leali nei confronti degli altri ed essere onesti, anche verso se stessi. E quindi esercitare, ecco, queste qualità morali nella propria vita interiore ci portano ad una maggiore consapevolezza e ad uno sviluppo della nostra vita interiore spirituale, animica. vita. Tutto ciò deve diventare abitudinario, non nel senso della mera passività, ma nel senso che deve essere incarnato in un modus, in un habitus di esistenza, in modo tale che si possa raggiungere la meta in maniera sicura. E quindi è importante che il discepolo della scienza occulta sia lucido nel pensiero e che tenda ad una chiarezza nel suo comunicare, nel suo parlare. Questo è fondamentale. Quindi la realtà del pensiero è essenziale. non è secondaria. Bisogna essere lucidi. E questa lucidità ci è data dal pensiero. Oltre che lucidi, anche prudenti. Prudenti nel formare e nell'esprimere giudizi. Perché bisogna stare attenti in quello che si dice e in quello che si giudica, appunto. Questo è un altro correlato, potremmo dire, un altro corollario di quello che è la lucidità del pensiero che abbiamo detto, che è fondamentale. Quindi regolare il controllo dei propri pensieri è qualcosa che ci consente di riordinare interiormente, con calma, ciò che ci assale dall'esterno, in modo da dare una direzione logica e assennata al proprio pensiero e che non sia semplicemente qualcosa di impazzito, qualcosa di... che non sa darsi una direzione appunto di disordinato, di caotico. Bisogna fare della propria mente pensante uno spazio che potremmo dire cosmico, nel senso etimologico, nel senso del cosmos, cioè nel senso dell'ordine, che si impone però a partire da un caos. Quindi la nostra mente dobbiamo concepirla come quel caos originario di cui parlano i miti, quel caos originario di cui parla la mitologia classica, ma non solo. E a partire da quel caos, andare con un'operazione che possiamo definire demiurgica, a dare forma, dare una forma che renda la nostra mente armonica, armonica nella misura in cui, attraverso il nostro pensare, noi siamo riusciti a dare una direzione specifica, a controllare il nostro pensiero, in modo tale che non sia casuale, tutto preso da ciò che l'esteriorità ci presenta in maniera sporadica, frammentaria, ma abbia una visione di insieme che è armonica. Questa è l'operazione del pensiero. E questa operazione del pensiero non può che essere fatta, viene da aggiungere, al di là del pensiero. Cioè questa operazione pensante, che consiste nell'ordinare il pensiero, non può essere realizzata dallo stesso pensiero. Cioè il pensiero non può organizzare se stesso. Quindi in questo organizzare il pensiero è già data una sua trascendenza, quindi perché è da esternamente rispetto al pensiero che lui si organizza. Quindi già si vede come dentro il pensiero si rende possibile la sua stessa trascendenza. Però la valorizzazione del pensiero è essenziale in questo processo che ci propone Steiner. La seconda qualità che bisogna coltivare, oltre a questo controllo del pensiero, è anche quello del controllo delle azioni. Quindi ogni nostro agire deve essere conforme ad una ragione. Bisogna che ogni azione sia regolata fondamentalmente. Un'altra qualità è la perseveranza, quindi bisogna essere perseveranti. La quarta qualità è invece quella della indulgenza, ovvero sia della tolleranza, tolleranza verso gli uomini, verso gli altri esseri, anche verso ciò che ci accade come evento, come fatto. Quindi bisogna reprimere ogni critica all'imperfezione. Non bisogna dire brutto, cattivo, bello, buono, in maniera immediata. No, noi sappiamo che c'è il bene, c'è il male, c'è ciò che è esteticamente bello e ciò che è esteticamente brutto. Ma non bisogna giudicarlo. Come il sole non nega la sua luce al brutto e al male, e il discepolo non nega il suo interessamento comprensivo verso tutto. Quindi, ecco, l'assenza di giudizio, questa totalità che viene inclusa in noi, ecco, in questo modo. Noi ci apriamo alla totalità. Quindi, se noi ci troviamo davanti a qualche contrarietà, non dobbiamo criticare, ma dobbiamo adattare alle circostanze il nostro agire, il nostro pensare e vedere il bene in tutto. Tutto deve essere visto alla luce del bene, quindi tutto è bene. In questo senso la tolleranza va esercitata, non in un senso differente da questo. La quinta qualità, invece, è l'obiettività di fronte ai fenomeni della vita. Bisogna essere obiettivi, vedere ciò che c'è. Quello che noi sperimentiamo è reale in quanto lo sperimentiamo. Quindi bisogna essere sempre ricettivi per tutto ciò che ci avvicina e avere fiducia nella efficacia di ciò che si fa, che si intraprende, eliminando via ogni timidezza e ogni tendenza al dubbio. Il dubbio è fondamentale per iniziare come principio di una ricerca, ma il dubbio poi ci blocca perché ci frena, ci frena dal continuare un percorso e quindi bisogna essere invece obiettivi, avere fiducia in ciò che stiamo facendo. Quindi bisogna avere questa forza interiore che è fondamentale. L'ultima e sesta qualità è quella della imperturbabilità, cioè dell'equilibrio della nostra vita, di avere una vita serena, gioiosa, ma anche nel dolore serena, quindi non soltanto nella gioia serena, perché è semplice, ma anche nel dolore, nella fatica, essere imperturbabili, non farci prendere da ciò che ci accade nella dimensione puramente sentimentale. Quindi non oscillare fra gioia esagerata e una depressione mortale, ma essere nel centro, al centro di questa dimensione. E quindi è importante anche questo aspetto che va sottolineato e che Steiner sottolinea. Se si riflette bene su quello che abbiamo anche detto, vediamo come spesso l'uomo che intraprende questi percorsi vive all'interno di illusioni e fantasticherie, ma non stiamo parlando di illusioni, stiamo parlando di qualcosa che profondamente esiste, è radicato nel nostro essere e che noi dobbiamo trasfigurare, trasformare, metamorfosare, partorire anche, no? Come dice anche Platone, o meglio, non Platone, ma attraverso il dialogo, il simposio viene fatto dire come la filosofia da parte di Socrate è concepita come, così, partorire nel bello, partorire nel bello, generare nel bello. Quindi questo travaglio anche interiore, maieutico, in parte, no? Come sappiamo essere il metodo socratico, rende possibile la manifestazione della bellezza, della bellezza. Una bellezza interiore che è proprio nel fiorire delle nostre qualità spirituali, nel fiorire della nostra anima, nel manifestare questi fiori di loto, appunto. quindi bisogna, appunto, essere molto concentrati su quanto si sta facendo e imparare a controllare se stessi e il proprio vedere, il proprio sentire, la propria sensibilità, la propria sfera emotiva, senza perderci in fantasticherie. Quindi questo è essenziale. Le funzioni del corpo, le inclinazioni e le passioni dell'anima, i pensieri e le idee dello spirito devono essere portate a perfetto accordo fra di loro. Anche questo è un altro insegnamento, no? Quindi unire il mondo, così, fisico, con il mondo passionale, abbiamo visto prima, sentimentale, mondo delle idee e quindi mondo del pensiero, che devono armonizzarsi. Diciamo così, come altrove Steiner si esprimerà, pensare, sentire e volere devono armonizzarsi. pensare, sentire e volere. Quindi essere veramente equilibrati nel corpo, nell'anima e nello spirito, cioè nella sensibilità, nella dimensione passionale e in quella ideale. Lo sviluppo di questo corpo animico, come appunto quello di cui stiamo parlando, rende proprio possibile l'esperienza di fenomeni soprassensibili, ecco la chiara oveggenza, no? di vedere qualcosa al di là di ciò che la sensibilità, come per esempio la vista, ci dà. Quindi questa visione non è quella della vista, lo ripeto, perché è uno sguardo interiore che in forma di sé, irradia di sé, illumina tutto ciò che ricade sotto poi gli altri sensi. Non coincide con nessuno dei sensi, non è una visione schizofrenica allucinatoria, ma è una visione che è superiore alla sensibilità e che in quanto tale informa di sé tutto ciò che si vede, che si vede, si percepisce. Quindi ecco la chiara oveggenza, come una coscienza di prescindere dal corpo fisico di un uomo che ci sta davanti, ma a partire da esso naturalmente, ma a prescindere, no? Perché ci consente di cogliere l'interiorità dell'altro, che attraverso il fisico si manifesta, che attraverso la dimensione corporale si manifesta, ma che non è riducibile ad essa, che non è riducibile. Questo lo possiamo fare, lo possiamo sviluppare con questo tipo di chiaroveggenza, possiamo realizzarla con l'esercizio dell'attenzione, quindi cogliere il dettaglio attentamente, osservare l'altro, non in maniera naturalmente ossessiva o in guardinga, ma uno sguardo che scava in profondità, che scava nella profondità dell'uomo con cui ci relazioniamo. Quindi è importante capire questo. Riassumendo, noi possiamo dire quanto segue, qui leggo direttamente quanto Steiner scrive, La scienza dello spirito parla di quattro qualità che l'uomo deve acquistarsi nel cosiddetto cammino delle prove per poter ascendere alla conoscenza superiore. La prima di queste è la capacità di scindere nei pensieri il vero dalla parvenza, la verità dalla semplice opinione. La seconda qualità è la valutazione giusta del vero e del reale rispetto alla parvenza, quindi c'è la giustizia e poi prima abbiamo detto la verità. La terza capacità consiste nell'esercizio, già descritto nel capitolo precedente, delle sei qualità. Controllo del pensiero, controllo delle azioni, perseveranza, tolleranza, fede e imperturbabilità. La quarta è l'amore interiore per la libertà. E vediamo quindi, è l'ultima che ci manca. Abbiamo visto quali sono le altre, queste che abbiamo definito, le abbiamo già viste nel nostro percorso, non solo di questo capitolo, ma effettivamente di tutto il libro, ma l'amore per la libertà è qualcosa che non abbiamo ancora affrontato. E lo vedremo, tra poco lo vedremo. Va detto che quindi bisogna metterle in pratica, non bisogna conoscere intellettualmente queste pratiche, bisogna praticarle e basta, è una pratica. La filosofia qui è concepita come pratica, essenzialmente appunto. E quindi, come anche Pieradono ha mostrato, gli esercizi spirituali sono qualcosa che è consustanziale alla filosofia, soprattutto nella sua concezione antica. E quindi arrivare a perfezionarsi spiritualmente, bisogna, per arrivare a questa perfezione spirituale, bisogna insistere, bisogna praticarla. Non è sufficiente una lettura, una comprensione, una comprensione meramente intellettualistica. Quindi, mettersi, così, rimboccarsi le maniche e lavorare. Lavorare e lavorare su se stessi, per perfezionare quella pietra grezza che siamo e renderla luminosa. Aura. Aurea. Aurea, far sì che l'auraticità che è in noi risplenda nella nostra aura. Ecco, potremmo dire con un gioco di parole, che riprende anche quella trasformazione della lapis, della pietra grezza, che appunto nella grande opera dell'alchimia viene spesso a ritornare. Qui è un lavoro alchemico proprio, di trasformazione. L'uomo attraverso i pensieri, i sentimenti, deve esercitare un'influenza sopra tutte le figure che non emanano da lui stesso. E quindi essere predisposto a questa percezione superiore, in modo tale che tutto si conformi a una realtà che potremmo tranquillamente definire divina. Anche se qui non viene mai utilizzato questa modalità di espressione. Ora, leggiamo ancora una parte che è un consiglio fondamentale che ci dà Steiner in questo cammino, per poi prossimamente in un prossimo incontro vedere l'aspetto dell'amore per la libertà, che è qualcosa che rientra nella filosofia della libertà, per esempio. Quindi un testo tutto gnoseologico e tutto rivolto ad una teoria della conoscenza, della realtà sensibile attraverso il pensiero, unendo, diciamo così in sintesi, percezione e concetto in maniera adeguata e conforme. Quindi unendo due dimensioni che nell'uomo sono cartesianamente scisse e invece renderle un'unità profonda, quella del pensiero, la realtà del pensiero e la realtà della sensibilità. Sei il discepolo nell'occultismo, scrive Steiner. Prima di ascendere alla visione superiore ha imparato a conoscere le proprie qualità per mezzo di un'autoosservazione, calma e obiettiva. Allora, nel momento in cui la sua interiorità gli si presenta come immagine esteriore, riflessa, troverà il coraggio e la forza di comportarsi nel modo giusto. Uomini che non hanno acquistato per mezzo di tale introspezione, una conoscenza sufficiente della propria interiorità, non si riconosceranno nella loro immagine riflessa e crederanno che si tratti di una realtà a loro estranea. Ecco quindi, educare se stessi in modo tale che quando poi arriveremo a vederci come nello specchio, non ci riconosceremo più, perché non abbiamo coltivato un'immagine adeguata di noi stessi. Quindi queste immagini spirituali, quelle che l'uomo incontra all'inizio del suo cammino verso il mondo superiore, perché così può comprendere se stesso come immagine spirituale. Quindi le immagini spirituali che abbiamo evocato, come anche quella del fiore di loto, eccetera, sono immagini che servono a fare entrare in contatto simbolicamente il discepolo con una realtà, quella sovrasensibile, spirituale, che appunto farà sì che quando incontrerà se stesso nella dimensione spirituale non si spaventerà e si riconoscerà effettivamente. Quindi bisogna praticare questo cammino in questa via. Un discepolo che ha raggiunto un gradino molto elevato non conosce più il dubbio. A un certo punto il dubbio viene meno. Il dubbio è funzionale come principio della ricerca, ma poi cessa di essere. Mentre prima egli poteva formarsi una fede basata su ragioni logiche e pensieri, al posto di questa fede subentra la piena conoscenza e la visione che niente potrà scuotere. Quindi ecco che è saldo, è radicato nella verità, potremmo dire, è radicato nel vero. E a questo punto il discepolo vedrà, una volta raggiunta l'iniziazione, il suo sé inferiore che costituisce la sua esistenza attuale. È solo una delle figure che il suo essere superiore può assumere, quella del sé inferiore, ma il suo essere superiore è totipotente, appunto potremmo dire. Può istanziarsi in molteplici forme e quindi si può anche, una volta radicati nel sé superiore, operare affinché si modifichi il sé inferiore e assuma una forma più perfetta. Quindi a partire da questa consapevolezza superiore che noi possiamo modificarci interiormente e raggiungere, in questo senso, un'ontologia nuova, un uomo nuovo che si afferma, un uomo radicale nuovo che si afferma come uomo libero. Ed ecco quindi anche l'amore per la libertà che è fondamentale, che è fondamentale e che tratteremo più avanti sicuramente, ma non detto necessariamente che questo sarà trattato nell'immediato. Però tuttavia appunto questa libertà è essenziale.